I bambini l'hanno scritto col cuore. Loro ci hanno messo la voce. Vi ho riuniti perché la situazione sulla Terra è molto preoccupante. Aprite le orecchie. So solo che sulla Terra non ci andrò moa. Volevo dire mai. Sono io che porto le corna, quindi lo deciderò io chi ci andrà. In questo momento non sono in casa. Lasciate un messaggio dopo il beep. Beep. Capita come il caccio sui maccheroni. Non mangio da ieri sera. Ma quello è mio figlio. Aiutiamo il WWF a difendere i boschi italiani. Dal 23 novembre in DVD. I believe I can fly. I believe I can fly.